Musica Nuri, complimenti, è stata una partita in cui avete saputo anche soffrire e poi nel finale sei stato tu l'artefice di quell'assiste vincente per Galano Sì, noi sapevamo che era una partita così difficile sotto tutti i punti di vista, veniamo su un campo difficile quindi abbiamo retto l'urto e quando c'è stata l'opportunità siamo stati bravi a concretizzarla T'aspettavi di giocare titolare e come ti sei trovato in questo nuovo modulo con Galano che ti galleggiava le spalle? Io, cioè nel senso, mi aspettavo, mi alleno per giocare titolare, poi il mister fa le scelte quindi sono contento di essere sceso in campo e darmi il mio apporto a questa partita Può essere la partita della svolta nel campionato del Pescara anche se siamo appena all'inizio? Sicuramente abbiamo fatto una grande partita soprattutto dopo una sconfitta pesante la scorsa settimana quindi vuol dire che noi ci siamo e andiamo dritti per i nostri obiettivi Ti racconti in occasione del primo gol cosa è successo con Valentini? Lui ha avuto un piccolo infortunio, tu sei riuscito ad anticiparlo? Sì, no, visto che ho stoppato malamente la palla ho provato a prendergli il tempo, è andata bene quindi meglio così Bel duello con Gavion? Sì, un bel animale quindi è stata una partita molto combattuta ma come ho detto prima lo sapevamo e ci siamo preparati per questo